Musica Un bel saluto e benvenuti ad Afasan Court. La informazione dal Comune Generale e da Afasan per questa settimana. L'Unione dei Paesi di Pozza e Vic, anche bene che se conspettere il referendum popolare dell'anno che viene, l'entrazione è sempre più concreta, che possa cambiare, se sa bene, la spartigione territoriale di Afasan, ma anche gli equilibri amministrativi. La procuradora Elena Testor sottrisse alle competenze che ha il Comune Generale in conto dell'amministrazione del Regione di Afasan, e la ne portarà ansia a Ponte Vedura e quel del Consiglio di Procura. Il fatto che il Comune decide di fare una fusione, perché ci sono stati suddivisi su due ambici di sviluppo, e che invece non riconoscono il fatto di stare insieme a quello che non sia veduto, che non può essere cercato su con soddisfazione. e diciamo che anche dal punto di vista economico sicuramente questo porterà dei vantaggi a questo Nef Comune che vennerà a mettere su. Ecco, una, diciamo che dal punto di vista politico, quello che è stata la nostra visione come, che anche si avvia con la Littazione, e quindi si è fatta la campagna Littella, si è basata e si ha la veduta insomma su quello che sono i tre Comuni per la Val di Fassa, con una motivazione e con cui hanno sempre motivato questa nostra veduta politica della Val di Fassa, che è la Ponte che si passa da 10.000 cittadini via per il fuori stagione, ma che dopo si arriva ad avere 70.000 presenze in della stagione. ed è un punto forte che si diceva che tre amministrazioni si potessero essere più incisivi su quella che è l'amministrazione della Val di Fassa. Adesso che, comunque, per garantire che l'uguaglianza dei due servizi per due cittadini di Fassa fosse comunque il Comune Generale che la ricordò la funzione politica amministrativa e quindi si sa a coordonare anche chi che le i comuni della Val di Fassa. Il Comitato Nazionale per il percorso per il nascimento è già conceduto la deroga agli ospedali di ciavalli ecclesi che quindi potrà tenere a verti il partimento del nascimento, anche bene che i nascimenti di un anno si manca dei 500. L'obiettivo è arrivato insieme alle due comuni di Fassa e Fiem, con l'urier fatto dal Presidente Provinziale Ugo Rossi, dall'assessore Zeni e da due assessores e consiglieri che già lui raddò. Comenta la bella neva la procuradora Elena Testor. Comentato su con gran gai, insomma, che sta con soddisfazione il fatto che le ruote da Roma, che sta deroga sul punto nascita dei Cavalei, chiaramente su questo è stato fatto un gran l'urier, è stato fatto un gran l'urier per inviare già a novembre con la manifestazione che si ha veduto la volontà di tutta la gente di tenere il nasocomio dei Cavalei e si ha lavorato insieme ai comuni di Fassa, già che si ha fatto dei documenti, si ha seguito a fare scontradi, anche con l'assessore hanno fatto parecchie scontradi fuori all'ospedale, e si ha lavorato anche con il nef dirigente Bordone. e vogliamo dire che questo è l'urier fatto insieme con la comunità della Val di Fien, perché su questo è un ruolo sempre in sinergia, insieme al Presidente, all'assessore Zeni e agli altri consiglieri e assessori che sono da giù per raggiungere questo obiettivo. Questo chiaramente è un pro pass, perché adesso ci sono i medici e su questo insomma guardarò l'urier sempre in coordinamento, tutti insieme, affinché possa essere l'ospedale di Cavalei il nostro ospedale di riferimento e che possa garantire da tutto sicurezza alla gente che va a Ponteina a chiedere il servizio sanitario e anche qualità, quindi due obiettivi che è di dare sicurezza e sanità e su questo ci guiderò l'urier a trovare le soluzioni che più carine per la nostra gente. In Cicchestà, nel Comune di Pozza, al metà giro del concorso, c'è un tono rincurato, con che la di fornire su barcons, bancai di finestre, vidori, orci, vanessi e c'è un tono del Paese per tenere su i valori ambienti e la cultura di mettere fuori fiori e piante per giudere l'ustre al Paese. Per il tuo perdo ci sono tanti, hotelieri e botteghiere che si insinuano a una delle categorie tanto che si è fuori i cater di Messel. A tutti chi che tolper ci vennerà a dare una cedola del valore di 20 euro per comprare fiori e piante della bottega del Paese. Ante il risultato di Messel e i doves di agosto, vennerà nominato ai vengitori per vini categoria, che vennerà premiato ai 6 di Dezember e nella segra di San Nicolò. Per si insinuare se comportare il formulare impienito di Canceleria del Comune si troverà tutta la informazione sulla piatta internet del Comune di Pozza. E quest'anno, in c'è a Moena venne togliere questo concorso a quel che già sta dal nome Moena in Fiore. Chi che ve il tor per consensionarlo dal Comune dal lunedì al vendere la domanda anche se è fuori i 30 di giugno. Il concorso è venne togliere dal Prune di Messel ai 10 di settembre e ai 22 di settembre, nella festa del Sprezzauri, vennerà premiare i Prunes 3 di vini categoria. Per informazioni si usano al Comune di Moena. Vi ricordi che potete discutere da faccia in cura e in c'è su un radio studio record di sabato e domenica da tre i quarti dalle 10 da domani e da tre i quarti dalle 6 da domani. Deve il paio di inervare da su se vediamo la settimana che viene.